Controlli straordinari sul territorio di Ponte Cagnano-Faiano da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia guidati dal tenente Graziano Maddalena. I militari della locale stazione insieme alla polizia locale con l'ausilio del personale del settimo elinucleo carabinieri di Ponte Cagnano hanno effettuato mirati servizi di vigilanza presso la stazione ferroviaria, dove nei giorni scorsi numerosi cittadini del posto hanno segnalato la presenza di giovani che ne avrebbero fatto un punto di ritrovo e di bivacco. Nel corso del servizio sono state passate al setaccio anche le zone circostanti allo scalo ferroviario. L'attività, fanno sapere i carabinieri, proseguirà anche nei prossimi giorni.